L'Italia si trova in dittatura. Il premier dittatore Conte insieme ai suoi galoppini ministri ha deciso di uccidere l'economia, soprattutto la piccola economia, perché chiudere bar, ristoranti, pub, far sì che debbano chiudere alle ore 18, chiudere le palestre, i centri benessere e quant'altro, significa davvero uccidere quella piccola economia che fa circolare il danaro, che mette in moto questo ingranaggio, questo meccanismo dell'economia del Paese Italia. Mi domando in tutto questo periodo, nel periodo successivo a maggio-giugno, allora quando la morsa del Covid sembrava essersi allentata, cosa si è fatto? Nulla è stato fatto per prevenire questi drastici provvedimenti, nulla è stato fatto per quanto riguarda la scuola, quindi l'istruzione, per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda i trasporti. Non si sono studiate misure atte appunto a prevenire questo lockdown, perché è un lockdown vero e proprio quello che ci è stato imposto. Mi domando che senso abbia chiudere ristoranti e pub, oltre appunto le ore 18 e poi vedete gli assembramenti che si creano sui mezzi di trasporto pubblico. Mi domando perché si debbano chiudere le attività sportive e poi invece in Serie A, dalla Serie A alla Serie D, il calcio possa procedere liberamente. Mi domando perché si vanno a colpire le piccole realtà economiche e poi una multinazionale criminale assassina come Arcelor Mittal può rimanere a Taranto e può non avere alcun tipo di limitazione. Mi domando per quale motivo le scuole, gli ultimi tre anni di scuole superiori diciamo hanno diritto alla didattica a distanza, alla didattica online, quindi didattica online per gli ultimi tre anni. Invece per le scuole elementari, diciamo questa espressione impropria di primo livello, qui è imposta la didattica in presenza perché i bambini non possono ammalarsi di Covid. Ma questo ci fa capire proprio la incapacità assoluta del governo Conte. Mi domando perché si debbano chiudere i bar, i ristoranti e le pizzerie e poi i centri commerciali non debbano avere limiti orari. Queste sono le stranezze di un governo incapace, di un governo che per comunicare ha bisogno della Ferragni e di Fedez, un premier che ha bisogno di un portavoce come Casalino, il famoso Rocco del Grande Fratello che lì al Grande Fratello non so se ci ha fatto ridere o piangere, non so se ora da portavoce ci faccia ridere o piangere. Insomma questa è l'Italia, una Italia che Conte vuole chiudere, vuole che gli italiani stiano a casa. Dovrebbe accadere il contrario, dovrebbe essere proprio Conte ad andarsene a casa per liberare il paese, un paese che conosce di nuovo un'atroce dittatura dopo il ventennio fascista. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.